Ci crede al secondo posto, sr. Galiani? Ma no, ma io non credo a niente, nel senso che lo sa che non mi piace fare previsioni. Noi dobbiamo cercare di far bene, di andare avanti e poi vedremo cosa succede. Davvero, io quelli che fanno le tabelle, io pareggio di qui, quello là vince di là, poi vinco di qui, quell'altro. Non ci ho mai creduto, non ho solo una cosa che non è nella mia testa. C'è un po' di rammarico, pensando alle prime campionate, insomma, alle prime giornate? No, nessun rammarico perché era chiaro che ci voleva del tempo. Poi, se anziché due mesi fossero tre o uno, non lo so. Direi che raramente un club, cambiando così tanto, riesce in così poco tempo a rimettersi in carreggiata. Quindi sono soddisfatto.